... Sindaco Valiante, buongiorno, ben ritrovato sui nostri canali, salve Sindaco. Buongiorno. Allora cominciamo con la giornata del 4 novembre, la giornata dell'unità nazionale delle forze armate. Sindaco Valiante ha partecipato alla cerimonia a Salerno. Anche Baronissi ha ricordato la giornata, la festa delle forze armate che si celebra in tutta Italia il 4 novembre e contestualmente ha ricordato le vittime, i caduti delle due guerre mondiali. Questa mattina alle nove, insieme all'arma dei carabinieri, al Polizia Municipale e dei cittadini, abbiamo deposto a memoria una corona d'oro dinanzi al monumento dei caduti in villa comunale. Poi c'è stata una cerimonia allargata a Capoluogo a Salerno con il prefetto e tante autorità e tanti sindaci. è una giornata che deve farci ricordare che se siamo così, che se l'Italia è un paese civile, è un paese avanguardia, lo deve anche al sangue di tanti cittadini italiani che nelle guerre hanno sacrificato la vita e hanno donato a noi questo paese che abbiamo il dovere di preservare e di salvaguardare. Quindi prendiamo spunto da questa ricorrenza, da questa festa delle forze armate per riflettere, per essere un tantino migliori e per riscoprire o scoprire quei valori che fanno dell'Italia, hanno sempre fatto in quei tempi dell'Italia un paese unito, un paese civile che ha donato a noi contemporanei la libertà, la pace, lo sviluppo e la crescita. Bene Sindaco, cambiamo argomento e concentriamoci sull'emergenza coronavirus. Ecco, sotto questo punto di vista com'è la situazione ad oggi? Ma siamo sicuramente un passo indietro rispetto a qualche tempo fa, perché si vede in Italia che questo contagio riprende piede, per fortuna non con la virulenza e con la violenza dei mesi e dei tempi scorsi. Questa situazione generale ovviamente si riflette normalmente anche sulla nostra città, contiamo ancora dei soggetti positivi quasi ogni giorno, ovviamente le persone guariscono anche perché il contagio è meno forte rispetto a quello che abbiamo purtroppo patito lo scorso anno e per i primi 6-7 mesi di questo anno 2021, ma insomma la situazione è sicuramente preoccupante, deve farci tenere sempre alta la tensione, non ascoltiamo queste parole e poi subito le mettiamo da canto, dobbiamo uniformare i nostri atteggiamenti, i nostri comportamenti, indossando la mascherina, osservando il distanziamento e avendo cura di evitare gli assembramenti, cioè i luoghi affollati. La mascherina si porta in tutti i luoghi chiusi ed anche all'aperto. Quando comunichiamo questi dati, a proposito oggi i nostri ambaronisti, i nostri cittadini positivi sono 14, per lo più giovani, c'è una percentuale di popolazione vaccinata che è l'80,54, quando diamo queste comunicazioni si sviluppa il dibattito anche sui social tra chi è per il vaccino e chi è contro il vaccino, tutti hanno delle teorie, tutti argomentano e tutti teorizzano la convenienza detta. Io dico che il vaccino è necessario, non lo dico io, ascolto, rifletto, metabolizzo, sono gli organismi sanitari che ci dicono che il vaccino è sanitario non per darci l'immunità, perché il vaccino non ci dà l'immunità al 100%, ma ci rende non aggredibili nell'80-85%. Sono totalmente esposti invece i soggetti che non si vaccinano e che possono contagiare gli altri. Certo, la percentuale dei positivi in questo momento, è un dato scientifico che riportiamo così fedelmente, così come l'abbiamo acquisito, è di circa il 60% di soggetti non vaccinati e il 40% di soggetti vaccinati. Ma c'è una grande piccola differenza, che poi non è piccola, è che se il virus aggredisce un soggetto già vaccinato, le conseguenze sono sicuramente molto superficiali, non ci sarebbe un pericolo di ricovero in ospedale, interrepenta in sera, non c'è pericolo di vita. Quello che invece accade è per chi non è vaccinato, per quella percentuale di soggetti che non sono vaccinati, sono quelli che finiscono in ospedale, interrepenta in sera e rischiano la vita. Quelli non vaccinati, è un dato statistico che ci viene dato. E poi io sinceramente siamo adesso così adulti e vaccinati da comprendere che questa storia dell'esercizio del diritto è proprio una bufala. Si ritiene di avere il diritto di non vaccinarsi, però non si ritiene di avere il dovere di non contagiare gli altri essendo non vaccinati. Perché adesso c'è la stragrande maggioranza degli italiani, l'85% che non accetta che è una minima parte di cittadinanza italiana possa contagiare e possa attaccare quello che è il diritto all'esistenza, alla vita. Smettiamolo con queste cose perché lasciano il tempo che trova. Allora, ancora ci sono delle persone che sono con ventamenti ostili al vaccino, e beh, però abbiano il dovere di rispettare tutti gli altri. Magari se ne stanno a casa, se ne stanno a casa. Quindi vaccino perché crediamo, ma lo ascoltiamo dagli organismi sanitari che sia l'unico modo per uscirne il prima possibile. Vedete cosa è accaduto a Trieste, vedete cosa accade a Trieste, vedete cosa accade nei focolaia, avvengono dove c'è gente che contagia perché non vaccinato. Anche noi abbiamo avuto a Baronessi delle classi dell'Istituto Superiore purtroppo in quarantena per via di un'insegnante che non so se era vaccinata. Bene Sindaco, cambiamo argomento e concentriamoci su questa ordinanza sindacale per la messa in sicurezza dei tratti ferrati, quindi un provvedimento contro le RFI. Noi lavoriamo, io lavoro, per dare servizi ai cittadini e dare bellezza alla mia città, alla nostra città. Ovviamente ci riusciamo, non ci riusciamo, ma questo è l'obiettivo, questo è un impegno quotidiano, anche sulle piccole cose, anche sui dettagli. RFI, cioè Ferrovie, ha fatto dei lavori di abbattimento di un rudere, un vecchio casello autostradale e la sistemazione presso i passaggi a livelli di Acquamela, via Cirillo, di Corso Garibaldi e di via Fondopagano, lavori stradali che sono stati realizzati in maniera contraria alla norma, alla norma del codice della strada, cioè hanno lasciato una situazione di rischio evidente e di pericolosità per i cittadini, per i pedoni, per gli automobilisti. E non parlo del degrado assoluto, evidentemente RFI non ha il valore della bellezza, non ha il valore del rispetto istituzionale, non ha il valore del decoro, hanno lasciato sacchi evidentissimi per strada di rifiuti o di detriti. Ovviamente siamo stati noi a telefonarli, ad invitarli così a rimuovere questa situazione, soprattutto di pericolo per gli automobilisti e per i pedoni, ma a rimuovere anche quelle schifezze che hanno lasciato ovunque. La telefonata è andata a vuoto, gli uffici hanno fatto una nota molto cordiale, ma ferma, chiedendo il ripristino dello stato dei luoghi, zero. RFI non c'è. RFI si nota soltanto per i tempi lunghissimi di attesa che ci sottopone agli attraversamenti a livello. Solo per questo si nota RFI. Ho emesso un'ordinanza di rimozione ad oras di questo stato di cose pietoso e vergognoso. Ovviamente attenderò qualche giorno e poi dopo andremo avanti in caso di ulteriore comportamento meno eferglista e irresponsabile. Bene, Sindaco, cambiamo argomento e concentriamoci sull'inizio dei lavori ERP Caposaragnano. Cosa meno incazzata, per così dire. Anche qui era una situazione agli ERP di Caposaragnano che era una condizione delle palazzine popolari messe proprio male con necessità di rifare il cappotto, di fare l'efficientamento energetico, di metterlo in sicurezza. i lavori hanno avuto inizio con, in questo momento stanno montando le impalcature per iniziare i lavori veri e propri. Ovviamente bisogna fare i conti anche col cattivo tempo, però il cantiere è aperto, andrà avanti e nel giro, io credo, per l'inizio dell'anno, gennaio-febbraio, noi avremo rifatto questi alloggi che daranno possibilità di risparmio energetico agli affittuati, agli occupanti di alloggi, ma anche daranno una condizione di vita più decorosa, ma anche più sicura ed anche più diciamo alla portata del senso della civiltà che ognuno deve rivendicare e deve avere. Bene, Sindaco, continuano anche le visite mediche, la prossima saranno le visite ginecologiche, questa iniziativa portata avanti dal Comune di Baronissi. No, veramente è una iniziativa patrocinata dal Comune ma organizzata e voluta dall'Associazione di Baronissi Ippocrate che devo ringraziare perché ha messo a disposizione dei medici professionisti il fine settimana, quindi ogni domenica nel locale in piazzetta municipio in cui i cittadini volontariamente e gratuitamente si sottopongono a visite mediche ed è un'iniziativa che ha avuto molto successo già la quarta quinta settimana e andrà avanti anche per altro tempo, ovviamente li sproniamo, li sollecitiamo e devo ringraziare l'Associazione Ippocata, questo è il bello del volontariato, questo è lo spirito vero di chi ha un'associazione, io sono molto contento, li ringrazio vorrei e vi ringrazio anche a nome delle persone che si sottopongono tante a queste visite mediche, domenica prossima ricordo piazzetta municipio dalle 9 fino alle 13 con prenotazioni che vanno fatte così come l'associazione richiede, è il turno delle visite ginecologiche, quindi credo che ci sia un afflusso, però insomma so anche che non sarà l'unica giornata dedicata alle visite ginecologiche, quindi se dovesse essere già un sold out nelle prenotazioni non ci spaventiamo perché nelle prossime domeniche, nelle prossime giornate sarà possibile avere la medesima visita medica. Bene Sindaco, chiudiamo con la presentazione del libro di Carmine Mari. Sì, venerdì del libro domani è venerdì ore 18.30 al FRAC Sala Astrolabio la presentazione di questo bel libro, bellissimo libro che ho anche letto e che è una storia ambientata a Salerno degli anni 20 in cui insomma ciascuno può così vedere e conoscere come era Salerno 100 anni fa come era rivace completamente diversa se vogliamo ed è un libro che poi è un romanzo che affascina molto peraltro Carmine Mari è un salernitano e sarà ospite della Sala Astrolabio domani sera alle 18.30 ad illustrare il suo libro e a rispondere alle domande che il pubblico farà. Ovviamente io voglio estendere l'invito ai cittadini in particolare ai giovani agli appassionati di storia agli appassionati di lettura ricordo che è baronissima dell'albo nazionale della città che legge però insomma dimostriamo di avere veramente il valore della lettura che è un valore che fa crescere che forma e che fa vivere meglio. Bene Sindaco abbiamo esaurito gli argomenti a nostra disposizione ci risentiamo una settimana prossima grazie buon lavoro a voi